Alessandro Forlani, Romaneo, ex senatore ed ex deputato di professione e avvocato. Di grande utilità nell'attività del Parlamento sono le varie autoriti che hanno il compito di regolamentare i servizi, i mercati e i diritti. Oggi incontriamo il commissario della commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali. Insomma una commissione che valuta se uno sciopero viola i diritti della persona che sono garantiti costituzionalmente. Commissario Forlani, nel settore dei trasporti ci sono numerosissimi scioperi, i cittadini si lamentano, città paralizzate. Com'è possibile paralizzare queste intere città senza tenere conto delle esigenze del resto della cittadinanza? Nell'area dei pubblici servizi questo è uno dei settori sicuramente più sensibili. Pensiamo soltanto a quello che è stato per il trasporto aereo la vicenda aziendale dell'Alitalia, la sua riconversione, la sua ristrutturazione. Ed è uno dei settori le cui agitazioni, le cui astensioni dal lavoro creano maggiore allarme. E' chiaro che la commissione deve valutare intanto la rispondenza delle azioni che vengono proclamate ai requisiti fissati dalla legge 146 del 90, che è la legge che regola il diritto ai sciopero nei servizi pubblici essenziali, e dagli accordi dei diversi settori che ne recepiscono i principi e che sono considerati vincolanti ai fini dell'esame della commissione. Rispetto ai trasporti c'è il tentativo costante di coordinare gli interessi e le certezze dell'utenza con quello che è il sacrosanto diritto dei lavoratori di interloquire con le aziende, con i datori di lavoro, con il governo o con i vari livelli anche locali di governo per le proprie esigenze e per i propri diritti. Quindi la commissione cerca di verificare sempre che pur rispettando le esigenze dei lavoratori queste esigenze siano contemperate con quelle che sono le esigenze dell'utenza e quindi negli orari, quindi nei turni, quindi negli intervalli, negli avvisi tempestivi. Ci sia comunque la possibilità dell'utente di organizzarsi, di sapere cosa accadrà e di prendere le proprie decisioni regolandosi senza subire eccessivi disagi. Quindi oltre alla verifica del rispetto rigoroso dei requisiti previsti dalla legge, c'è anche un tentativo costante di dialogare con le parti per arrivare a condizioni in cui i diritti di tutti i soggetti coinvolti vengano in qualche modo tutelati e rispettati. Quindi lei dice che il contemperamento delle esigenze ce n'è. Non so se però tutti i cittadini poi effettivamente vivono questa condizione, ma comunque in ogni caso le vostre controparti sono sia amministrazioni pubbliche che imprese. Per la sua esperienza, quali delle due entità, quali delle due organizzazioni è maggiormente conflittuale e dai maggiori problemi? Si tratta di servizi pubblici essenziali, quindi servizi rispetto ai quali molto spesso le imprese sono imprese appaltatrici di pubbliche amministrazioni, cioè rispetto ai quali gran parte delle volte il soggetto pubblico è coinvolto. Noi abbiamo, come dicevo prima, privilegiato questo approccio che poi non sempre riesce, non sempre arriva a buon fine, le violazioni possono sempre ravvisarsi, anche perché parliamo di una massa di attività abbastanza rilevante, dato il clima di crisi e di tensione che sta vivendo il Paese. Però abbiamo cercato questo approccio costruttivo, dialogante, quindi ci sono anche molte audizioni e incontri e devo dire che, per quella che è stata la mia esperienza, almeno negli ultimi 6-7 mesi, da quando sono membro della Commissione, si trova ascolto e collaborazione, tanto da parte di pubbliche amministrazioni che da parte di imprese. Facciamo subito un salto con le questioni del giorno. C'è, oggi è diventato, ieri sera è diventato, è diventata legge, il DDL del Governo in materia del lavoro. È un intervento legislativo che consente al lavoratore dipendente di ricorrere non solo al giudice per le controversie, ma anche all'arbitro. Questa questione può aprire una stagione sicuramente di maggiore conflittualità. In termini di sciopero, e laddove dovesse coinvolgere anche i settori del servizio pubblico essenziale, le ritiene che si apra una stagione difficile su questo punto? Io intanto ritengo che questo provvedimento non vada a comprimere le certezze e le garanzie per il lavoratore. è una facoltà di avvalersi di una procedura alternativa che può consentire alcuni vantaggi anche per il lavoratore e il ricorso alla quale è rimesso alla volontà del lavoratore. Quindi non vedo una compressione dei suoi diritti fondamentali. Il sindacato, naturalmente, che ha promosso in passato, ma anche in un contesto economico-sociale diverso, alcune battaglie per certe forme di tutela, forse un po' più rigide, tende generalmente a difendere questi istituti e sicuramente porterà delle motivazioni anche valide. Però io credo che su questo punto si possa arrivare ad un'opera di persuasione, un ragionamento comune che porti ad accettare anche da parte del sindacato questa forma alternativa e a valorizzarne quelli che sono gli eventuali vantaggi ai fini proprio della tutela del lavoratore e ai fini anche della efficienza e a volte della sopravvivenza delle imprese stesse. Un'ultima domanda. L'efficacia di una commissione si valuta anche in termini di azione sanzionatoria. Qualche dato che rappresenta la forza e la capacità della commissione di risolvere le problematiche? Ma guardi, come ripeto, cerchiamo sempre di evitare la soluzione estrema attraverso le indicazioni immediate, attraverso le audizioni, attraverso il tentativo anche della commissione di comprendere le ragioni di conflittualità. cerchiamo di evitare lo sbocco sanzionatorio che però in alcuni casi è necessario quando non si riscontra la disponibilità a conformarsi alle indicazioni e alle regolamentazioni. È l'unica forma di disincentivazione che possa in quel caso quantomeno prevenire ulteriori azioni non conformi alle prescrizioni.